4. Regola cardine Quali sono le regole dei maestri immateriali? Commento La regola cardine è la rinuncia alla propria personalità, il che vuol dire che l'individuo è diventato un altruista, che non pensa sempre a se stesso, che ha in parte dimenticato il suo io. 5. Se attratto profitto dagli insegnamenti, vive una vita di astinenza dalla materia e una moralità che è di molto superiore al periodo storico che l'individuo vive.